Buongiorno sempre da Matteo Barberi, Virtual Meeting Soluzioni per la Formazione Online. Oggi volevo parlarvi del Centro Italiano Congressi e perché vi parlo del Centro Italiano Congressi di Roma? Perché è stato il nostro primo cliente nel 2006 in ambito ECM, quello dopo tanti anni, dal 2006, proprio nei giorni scorsi, abbiamo gestito una web conference insieme agli amici del Centro Italiano Congress, conosciuti a Cernobbio, molti di voi conoscono il forum, i primi eventi, il primo evento del forum nazionale ECM, dove abbiamo avuto l'onore di gestire tutte le interviste, la gestione di comunicazione per conto dell'organizzazione dell'evento, abbiamo avuto l'occasione di parlare con l'allora Ministro della Salute, abbiamo lavorato in sinergia e ovviamente in quell'occasione Virtual Meeting è entrato di fatto nel mondo della formazione in ambito medicale. CIC è stato il primo a darci fiducia nel 2006. Perché vi parlo CIC? Perché è un'altra tipologia di azienda con obiettivi differenti rispetto a quelle che abbiamo visto alcuni similari, si sovrappongono, ma alcuni diversi, rispetto ad altri chiesi history che abbiamo valutato e avete visto in questi giorni nelle nostre comunicazioni. Invito tutti ovviamente a seguirci sulla nostra page Fan Virtual Meeting, dove troverete anche perché vi parlo di queste attività che sono ovviamente utili per il vostro business. CIC è sia un provider ECM come molti di voi, ma è nel suo tempo contemporaneamente sia un editore che un'organizzazione di eventi. Questo binomio ha permesso allora di essere uno dei primi interlocutori e diciamo realtà che aveva iniziato a fare formazione a distanza nel 2006. Ci contattano per iniziare due progetti molto interessanti in ambito ECM. La prima è stata la formazione FAD, quella che oggi è diciamo molto utilizzata, quella che viene chiamata formazione asincrona e parliamo del 2006, non del 2020, qualche annetto fa, con un lavoro di creazione di content, di contenuti, li abbiamo supportati e abbiamo realizzato già il primo progetto. Abbiamo realizzato poi un progetto in ambito ebook, per quanto riguarda la distribuzione di ebook in ambito ECM, un ottimo progetto di cui sono particolarmente fiero nell'averlo sviluppato con il Centro Italiano Congressi. Abbiamo sviluppato e gestito poi anche degli streaming già allora, in quegli anni, quello già in modalità mobile, non ricordo ancora, a Pisa, con il Centro Italiano Congressi, quello abbiamo realizzato in tempi, tra virgolette, non sospetti come potrebbero essere quelli di oggi, attività che già il Centro Italiano Congressi erogava, perché proponeva alla propria clientela una modalità di eventi, di formazione differenti, per poter essere il più possibile personalizzata, eseguendo il nostro cliente. Oggi rimane a distanza di 14 anni, oggi collaboriamo ancora con il Centro Italiano Congressi. Ha dato fiducia, noi abbiamo dato fiducia a loro, ok? Perché è un lavoro sempre win-win, questo termine particolarmente amato dagli adicelli, quelli che sono manager, ma di fatto è difficile da realizzare questo rapporto tra fornitore e cliente. In realtà con il Centro Italiano Congressi è un ottimo lavoro di collaborazione, in quanto i format, le modalità vengono delegate in qualche modo a chi, come noi, ha fatto esperienza nelle varie piattaforme, nelle varie interazioni e dando anche all'interlocutore, cioè al cliente finale, che può essere di fatto lo sponsor o l'associazione o il comitato scientifico o la società farmaceutica, il giusto equilibrio tra interazione, tecnologia e innovazione e personalizzazione. Questo permettendo quell'equilibrio è possibile realizzare dei progetti che hanno un ritorno per tutte le parti, cioè un ritorno sull'investimento che permette alla casa farmaceutica essere soddisfatti, essere soddisfatto in questo caso virtual meeting. Sono il binomio sul quale dobbiamo lavorare per non commettere quei passi falsi che possono determinare poi un non più utilizzo della soluzione. Se vi ricordo che il Centro Italiano Congressi ha di fatto un rapporto con noi da 14 anni, vuol dire che la fiducia è reciproca, ma anche in ottica di passo step by step delle attività che vengono organizzate. Per adesso vi ringrazio, vi invito ad andare a conoscere chi è il Centro Italiano Congressi sul sito www.centroitalianocongressi.it dove trovate tutte le informazioni necessarie per qualunque informazione virtual meeting è a vostra completa disposizione. Grazie da Matteo Barberi e buona giornata. Grazie a tutti.